Ciao ragazzi, bentornati qui sul mio canale e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi parliamo di kit Parkside per il nostro utensile multifunzione preso nei cessioni della Lidl a 7,99€. Ma vediamo se veramente funziona ed è compatibile tra tutti gli elettro utensili dello stesso genere, ovvero elettro utensile multifunzione che sia sia a batteria che a corrente. Lo vediamo subito dopo la sigla. Come possiamo vedere dalla confezione, accessorio per utensile multifunzione. Loro ci dicono e ci garantiscono a quanto sembra che gli attacchi siano uguali sia per la versione a batterie, quello con la versione della batteria X20V che è comparibile con moltissimi altri elettro utensili, e sia con la versione a corrente. Quindi andiamo a scoprire se veramente il contenuto ci garantisce quello che ci dicono e lo compariamo con gli altri che già abbiamo in nostro possesso. Per chi fosse interessato trova qui nel mio canale una video recensione di questo oggetto e dei relativi suoi accessori. A dirla tutta ragazzi, come potrete vedere tranquillamente nei miei video, non uso tantissimo questo tipo di elettro utensile. Forse so il perché. Perché realmente lo tengo sempre nella valigetta e molte volte addirittura mi scordo di possederlo. Quindi ho pensato, perché non creare un posticino e tenerla a portata di mano? Comunque non è di questo che dobbiamo parlare in questo video, ma della compatibilità tra questo e questo. Perciò andiamo a vedere subito scartando la confezione, ma prima di fare ciò vediamo che cosa è contenuto all'interno della confezione. Andando a vedere il manuale riportato nella parte posteriore della confezione, leggiamo nella lingua in italiano accessori per elettro utensile multiuso. Set di 23 pezzi per segare, tagliare, raschiare e levigare. Sarà contenuto anche un raschietto in acciaio modello Z52A1 per togliere colla per piastrelle, fuga in silicone, guarnizioni, nastri adesivi, sigillatura di vetrate, resti di malta e di pittura. Poi saranno contenuti 20 fogli di carta abrasiva strappo, quelli con classico stretch, con grana da 60, 80, 100, 120 e 240, per levigare il legno, ma si può usare anche tranquillamente sul ferro. Lama ad immersione HCS Z32C3 per tagli ad immersione in legno, plastica e cartongesso, alloggiamento adatto agli utensili multiuso Parkside. Infatti l'esempio che ci riportano nella parte posteriore della confezione è l'utensile multifunzione, quello a corrente. Vedete, non so tra un riflesso e l'altro, se riesco infatti sì, ecco a farvi vedere il cavo. Ma loro ci garantiscono che questo kit va bene anche per quello a batteria. Chiaramente il video non lo sto facendo tanto di per sé per quanto riguarda il kit, perché è un kit veramente molto semplice e molto alla portata di mano. Per quanto riguarda i fogli di carta abrasiva per carteggiare e quant'altro, o per le piccole lame che servono per tagliare plastica, cartongesso o nel legno quando si va ad immersione, perché ricordiamoci che questo tipo di elettro utensile fa una piccola vibrazione di qualche grado appunto e facendo questo movimento riesce ad immergersi con le lame nel cartongesso, nella plastica e nel legno. Ma il mio intento era proprio di vedere se veramente questo tipo di kit va bene per il nostro utensile a batteria. È vero che stiamo spendendo solo 8 euro, ma quando si è scettici e si pensa ma varrà la pena, non varrà la pena, sarà adatto o non sarà adatto, beh, io porto sul canale anche questo tipo di contenuto. Quindi con un taglierino vado a tagliare una parte della confezione. Ok, quello che tireremo fuori è la prima lama ad immersione per quanto riguarda plastica, cartongesso e legno. Adesso andiamo a vedere la differenza di stampo tra queste e quelle che ho già in mio possesso e vediamo se realmente sono compatibili. Quindi una volta dilaniata la confezione andiamo a vedere che al suo interno, dentro la parte di carta, troviamo il libretto di uso e manutenzione con le varie caratteristiche tecniche per quanto riguarda le misure, i materiali e quant'altro, ma non penso che servirà a molto. Questi sono kit che, se non sbaglio, costano intorno a 7 euro l'uno, se non sbaglio. Adesso andiamo a vedere quest'altro tipo di lama. Allora, la forma è uguale sia in larghezza che in lunghezza e a differenza di quelli che ho io in mio possesso, ok, vedete, ha una serie di asole molto più vasta del kit che abbiamo preso che dovrebbe essere abbastanza più economico. Infatti, vedete, questo presenta solo dei fori. Perciò, andando ad agire sulla leva che farà arretrare la mia ghiera, andiamo a vedere se il kit appena acquistato può andare bene. Allenterò ulteriormente il mio dato. ok, vediamo, dovrebbe essere perfetto ragazzi. Vediamo un po'. Ok, la nostra lama è montata, quindi abbiamo la certezza che questo kit è così come ci promettono, che va bene sia per l'elettro utensile a corrente e sia per lo stesso elettro utensile a batteria. Ahimè, una cosa che è totalmente diversa dal kit che abbiamo appena preso sono i nostri fogli abrasivi. Infatti, se vediamo, questo è per levigare il marmo e pietra e roba del genere. Poi abbiamo qui un altro kit che sia sia per la plastica, il ferro e il legno. Qui stessa cosa, ma guardate il pad che ho in mio possesso, quanto è piccolino rispetto a questo che abbiamo appena preso. Dunque, ragazzi, la prima cosa che mi viene allora a questo punto in mente di fare o è costruirmi un oggetto che possa andare, magari tramite incollaggio o qualche cosa del genere, possa andare sul mio, diciamo, elettro utensile o altrimenti, cosa più semplice, è andare ad applicare questo foglietto che ho io, applicarlo sopra, andarlo a tagliare e così recuperare in parte i miei fogli abrasivi. Altrimenti non potrei farne nulla perché non ho un qualcosa che mi alloggia direttamente i miei foglietti. Vedete, qui non c'è modo di attaccare con lo stretch, perciò l'unica soluzione, secondo me, per non buttare questi è fare appunto, come appena detto, metterlo sopra e ritagliare. Vediamo se la forma ci permette in parte di poterli adattare o dovremo vedere se troviamo in commercio il supporto che può essere montato sopra al nostro multiutensile per poterli usare così in forma integrale. Dunque ragazzi, grazie a questo video abbiamo scoperto che per quanto riguarda gli elementi taglienti del nostro utensile multifunzione non abbiamo alcun problema di alloggiamento e di inserimento sulla nostra testina. L'unico problema sono questi foglietti abrasivi. Perciò, secondo me, la spesa si può fare perché con 8 euro abbiamo preso 1, 2 e 3 lame taglienti sia per scollare, per tagliare, per levigare. Perciò, ragazzi, perdonatemi, non è per levigare ma anche questo è per tagliare con una forma semicircolare e questo qui abbiamo detto la rimozione di colle, piastrelle, stucchi e quant'altro. Perciò, ragazzi, io spero di aver fatto cosa gradita portandovi anche questo tipo di contenuto qui sul canale. Perciò, non mi resta che lasciarti le solite raccomandazioni che chiaramente sono quelle di iscriverti al canale se ancora non lo hai fatto. Ricordati di attivare la campanellina per sapere quando porterò nuovi video qui sul canale. Lascia un like se il video l'ha trovato interessante e ti è piaciuto. Quindi, non mi resta che augurarti buon proseguimento di visione con altri video. Ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie da Capizza.